Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net Nella puntata odierna di Prima in Nord, tagliare gli stipendi d'oro dei manager pubblici Tagli le priorità della Lega Nord, eliminare i privilegi a partire dalle auto blu Con questo ammendamento intendiamo proporre ulteriori restrizioni in modo che le auto blu, le auto di rappresentanza, siano solo quelle per le cariche più alte delle istituzioni Quindi con una riduzione forte, un problema spinoso che in questo paese non riusciamo mai a risolvere ma che è fortemente sentito da tutti i cittadini Ossia il taglio ai vitalizi d'oro, alle pensioni d'oro, agli emolumenti d'oro dei manager pubblici Si fissa un tetto semplicemente e data la situazione di particolare e tragica crisi che viviamo Si dice che perlomeno per un triennio, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali Non si superi nel cumulare i trattamenti pensionistici un limite che è sempre molto alto perché si arriva fino a un massimo di 10.000 euro Questo Parlamento dimostrerà ancora una volta di più che è lontano dal paese reale fatto da famiglie, imprese e dai comuni, dai sitaci Che sono sempre in prima linea ad affrontare i problemi dei territori e della gente Noi abbiamo presentato questo emendamento perché deve essere dato un messaggio chiaro al paese Noi non possiamo oggi chiedere ai cittadini nuovi sacrifici quando sappiamo che ci sono trattamenti previdenziali o stipendi dei manager pubblici che superano addirittura i 10.000 euro Proprio in questi giorni ed è cosa mascherata dai giornali italiani Negli Stati Uniti sono stati addirittura collocati in ferie i dipendenti pubblici perché lo Stato non ha più capacità di pagare i loro stipendi Qui invece si continua ad ignorare che la situazione non è grave, è gravissima Come direbbe qualcuno è grave ma non è seria Qui si fanno le leggi e non ci possono essere scuse come improcedibilità data da una sentenza di corte anche fosse di corte costituzionale Perché è proprio lì e oggi dobbiamo dirlo Non è che abbiamo nominato alcuni rappresentanti in corte costituzionale che hanno stipendi superiori ai pensioni superiori ai 10.000 euro al mese Che oggi dobbiamo tacere questa incongruenza Perché nel paese reale dove la gente lavora in fabbrica questi stipendi non si vedono neanche in una vita E' qui che bisogna agire, qui che bisogna dare messaggi chiari al paese Queste altrimenti sono incongruenze tra il paese reale e la politica che deve essere superiore a queste nefandezze